ma guarda quella come vestita la poveraccia ma non si vergogna di andare in giro vestita così? tanto loro sono abituate ad indossare stracci che bei stiti che hai dove li hai presi? dalla spazzatura si si poi vediamo domani cosa fare lasciatemi stare vi prego lasciatela stare questo non serve agli animali come te cosa ci fai qui tutto solo? non ti vuole nessuno? torno al tuo paese che stai solo inquinando la nostra aria questo è quello che vale mi fai schifo tu e tutta la tua razza mi fai schifo tu e tutta la tua razza? stai bene ragazzo? cosa è successo? no niente sono solo caduto sappiamo entrambi che non è così ci sono passato anch'io e so come ti senti in questo momento pensi di essere sbagliato di valere zero di essere inferiore a loro non è così tu sei più di quello che ti fanno credere e io lo dimostrerei quando tu diventerai qualcuno e loro no guarda a me ad esempio se credi in te stesso puoi diventare chiunque tu voglia a prescindere dal colore della tua pelle e delle tue origini vieni che adesso andiamo a parlare con voi tutto bene cosa è successo? quelle due ragazze là mi hanno preso in giro per il mio aspetto poi si sono avvicinate tranquilla adesso ci penso io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti